È possibile trovare Lola su Brawl Stars, per trovare non intendo nelle casse anche perché il pass dura ancora 11 giorni Però cos'è che potete fare? Se voi andate nei brawler, come vedete sono 51 su 51, tutto molto standard, anche andando in fondo non c'è niente Ma vi dico andare in fondo perché se voi pigiate sul bottone per riordinare i brawler, qualunque sia, basta che lo pigiate Andando in fondo, oh oh, brawler da sbloccare è quella chi è? Ovviamente è la nostra mitica Lola, tra l'altro con un dito se trascinate verso l'altro e con l'altro andate a tappare Lola è possibile proprio visualizzare la scheda Quindi eccola qua in tutto il suo splendore, arriverà nella stagione 9, possiamo già vedere anche gadget e star power C'è sì il bottone prova ma purtroppo non si può provare ragazzi